La nota ex protagonista del Grande Fratello non sembra aver apprezzato il singolo di Fedez. Negli ultimi giorni Fedez è spesso al centro delle cronache principalmente per gli avvistamenti in locali e altri posti in compagnia di giovani donzelle. Ma non è tutto. Il rapper infatti sta facendo molto discutere il pubblico anche per il suo nuovo singolo, Sexy Shop, lanciato proprio di recente in radio e su tutte le piattaforme di streaming. La canzone divide l'opinione pubblica. Chi la trova interessante e chi invece la vede quasi come un riferimento alla sua ex moglie. A spingersi contro il giovane cantante ci ha pensato anche l'ex protagonista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, durante al suo ospitata a Pomeriggio 5 con Mirta Merlino. Ecco come la donna ha commentato la canzone di Fedez e Amy Schilla. Fedez su questo è il numero uno, perché lui riesce a guadagnare su qualunque cosa. Il problema è che ci sono i figli di mezzo, capito? C'è una grande differenza. Io non sono molto d'accordo. Riferimenti alla moglie? La cosa ovviamente al momento rimane un mistero ma proprio lo stesso Federico, durante la festa di presentazione del singolo, Sexy Shop, ha dichiarato di non aver assolutamente intenzione di parlare mai male della sua ex moglie Chiara Ferragni. Io volevo anche aggiungere una piccola postilla. E ovviamente tutti si aspettavano che io in questo brano insultassi mia moglie, ma io non intendo prendere parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli, e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative. Chissà a chi è riferita realmente la nuova canzone del rapper.